periodicamente l'attenzione si riaccende su bitcoin di solito quando raggiunge nuovi record di prezzo ma la comprensione del fenomeno arranca ancora cos'è bitcoin è il tentativo di creare la scarsità in ambito digitale per la prima volta c'è infatti un bene digitale trasferibile ma non duplicabile spendibile una volta a vantaggio di tizio ma non spendibile una seconda volta a vantaggio di cario bitcoin vuole essere l'equivalente digitale dell'oro se riflettiamo per un attimo sul ruolo che loro fisico ha avuto nella storia della civilizzazione della moneta e della finanza possiamo intuire quanto dirompente potrebbe essere l'emergere di un oro digitale nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta della finanza questo è è stato capito negli stati uniti dove abbiamo visto i principali attori finanziari fare un'inversione ad u ed entrare nell'arena bitcoin tutte le banche di investimento lo propongono ormai alla loro clientela upper affluent la tesoreria di aziende quotate diversifica investendo in bitcoin società assicurative fondi pensioni introducono bitcoin nella loro allocazione di portafoglio questo spiega i nuovi record del prezzo bitcoin bitcoin è permissionless innovation innovazione che non chiede il permesso non ha meccanismi di sicurezza centralizzati non ha barriere all'ingresso non ha controllo editoriale non si tratta di un programma anarchico o belletariamente rivoluzionario la permissionless innovation ha infatti già mostrato di essere gentile ed efficace la posta elettronica non è stata progettata da un consorzio di uffici postali internet non è stata sviluppata da un consorzio di telecomunicazioni e alquanto implausibile che un nuovo network transazionale del valore sia disegnato da un consorzio di banche governi bitcoin è o perlomeno vuole essere l'equivalente digitale dell'oro proprio con incorporato un network transazionale veloce sicuro e incensurabile non stupisce quindi la crescita incredibile del prezzo di bitcoin che anzi probabilmente non è ancora arrivata maturazione né deve spaventare l'intrinseca ovvia volatilità della dinamica del prezzo cioè dal processo in cui il mercato ottima tenta di mettere a fuoco il valore di un bene così innovativo e controverso in questa corsa all'oro digitale disturba piuttosto la presenza ancora significativa di un circo di fuorileggio briaconi fruffanti truffatori ciarlatani confondono la scena creano confusione rafforzano pregiudizi d'altronde san francisco è stata edificata quando la polvere del far west si è posata possiamo quindi confidare che alla fine mercato e rule of law il diritto beneficeranno degli anticorpi di libertà che bitcoin sta facendo inesorabilmente crescere